Ma almeno 5 agenti della Polizia Penitenziaria trasferito a Torino lo Svizzero arrestato sabato a Stresa. Cuciniamo l'eccedenza, il progetto con cui Nova Coppa ha donato all'Emporio dei Legami i 250 pasti per famiglie in difficoltà. Apertura anticipata per il fondo a Riale grazie allo Snow Farm, la stagione dello sci può partire già il 28 ottobre. A Omegna il Comune ha dato incarico per la progettazione della riqualificazione dell'ex scuola Madonna del Popolo. Per Bagna nel reparto psichiatrico arriva la pet therapy, le attività ogni lunedì pomeriggio per un'ora e mezza. Nonostante la pioggia e qualche defezione dei 273 iscritti, domenica a Domodossola si è corso il trail del Calvario. Una buona serata e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca ha dato in escandescenza in carcere a Verbagna e ha malmenato 5 agenti di Polizia Penitenziaria. Lo svizzero arrestato sabato sera dai carabinieri a Stresa è stato trasferito a Torino. Sul caso è arrivata anche una nota del sindacato di Polizia Penitenziaria. Sarebbe stato trasferito a Torino il 31enne svizzero arrestato sabato sera dopo un inseguimento lungo la statale del Sempione. L'uomo ieri ha dato in escandescenza in carcere, prima devastando il bagno e poi nel pomeriggio malmenando 5 agenti della Polizia Penitenziaria. In seguito a quell'episodio è arrivata una nota del sindacato della Polizia Penitenziaria, il SAP, che parla di un'ennesima giornata di sangue e violenza in un carcere del Piemonte, segnatamente nella casa circondariale di Verbagna, dove ieri diversi poliziotti sono stati aggrediti e feriti da un detenuto. Spiega Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte, nel pomeriggio di ieri un detenuto con problemi psichiatrici si è scagliato improvvisamente con violenza contro 5 appartenenti alla Polizia Penitenziaria procurando ferite per le quali l'ospedale civile ha dato loro diversi giorni di prognosi. Un elogio ai colleghi che lavorano nell'Istituto di Verbagna, in particolare a coloro che sono stati vittime di questo episodio, che hanno comunque scongiurato il peggio. È l'ennesima aggressione da parte di detenuti con problemi psichici nei confronti degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, ancora una volta sottovalutata dall'amministrazione penitenziaria, che dà scarsa attenzione sulla difficile gestione di detenuti con problemi psichiatrici all'interno delle strutture penitenziarie, la stessa divenuta sempre più difficile da affrontare. Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, torna a denunciare come la consistenza e presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri piemontesi e del Paese. Il personale di Polizia Penitenziaria è estremato dai logoranti ritmi di lavoro, a causa delle violente e continue aggressioni e chiede al Ministro della Giustizia, che verrà, di affrontare una volta per tutte il problema delle tensioni che si vivono nelle case circondariali. Fino al 3 novembre la COP di Verbagna è chiusa per ristrutturazione. I locali sono stati completamente svuotati. I prodotti invenduti finiranno sulla tavola di 250 famiglie in difficoltà. Si tratta del progetto Cuciniamo le eccedenze, nato da un'alleanza tra NovaCop, Emporio dei Legami di Verbagna, e Formont. Questa mattina la presentazione. NovaCop da sempre collabora sia con il mondo della scuola che con il mondo del sociale. Questo progetto unisce entrambi gli obiettivi. Assolutamente sì. NovaCop da sempre, essendo cooperativa, siamo nel mondo del sociale. Quale maggior occasione nella chiusura di una ristrutturazione importante, come quello che sta avvenendo presso il nostro punto vendita di Verbagna Intra, di poter abbinare quello che è un nostro tema centrale dello spreco alimentare e aiutare invece una onlus così importante come l'Emporio dei Legami del territorio di Verbagna. Per noi il progetto è comunque un progetto annuale, quello del buon fine, quindi tutti i giorni noi doniamo all'onlus quello che è per noi l'invenduto o quello prossimo alla scadenza. La chiusura così importante di un punto vendita ovviamente da modo di poter accantonare davvero tanti prodotti non più vendibili e quindi cuciniamo le eccedenze ci sembrava un'ottima soluzione. Come verranno distribuiti questi 250 pasti? Allora noi abbiamo l'Emporio aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì al pomeriggio. Le persone vengono, hanno le tessere con i punti a disposizione e ritirano i prodotti a secondo delle loro preferenze e delle loro esigenze. Quindi noi abbiamo praticamente in questo periodo circa 60-70 famiglie che vengono ogni giorno di apertura e possono venire una volta alla settimana e quindi daremo questi prodotti tra oggi pomeriggio e venerdì pomeriggio. L'Emporio si conferma veramente un luogo di legami? Assolutamente sì, come possiamo vedere anche questa mattina la rete territoriale c'è e funziona, in questo caso un progetto che non è solo sociale ma soprattutto educativo. Quindi cosa volere di più? Allora delle eccellenze diciamo di Verbagna che si mettono insieme e fanno qualcosa di importante come questa donazione questa mattina. Un'esperienza doppiamente formativa per i vostri ragazzi? Sì decisamente, esperienze che peraltro stiamo già facendo da anni perché con la Copi nostra lo facciamo già, è la prima volta che siamo sul Verbano, doppiamente formativa perché va bene, intanto contro lo spreco alimentare che vista anche la situazione e poi sulla parte professionalizzante. I nostri ragazzi hanno imparato a scegliere i prodotti, non sprecare nulla e confezionare circa 300 pasti. Quindi direi che professionalmente è stata una bella cosa. E anche umanamente penso. Umanamente quello sì, devo dire che purtroppo anche nelle nostre famiglie ci sono, nei nostri ragazzi ci sono situazioni che hanno bisogno, quindi hanno toccato ancora di più con mano che purtroppo è una realtà molto diffusa e quindi è servito anche doppiamente in questo senso. Ora invece parliamo di sci. Tra due settimane a Riale parte la stagione del fondo. Questa è una delle novità che il distretto turistico dei laghi e delle valli dell'Ossola promuove in questi giorni alla Fiera di Rimini, importante vetrina turistica. A Riale la stagione dello sci di fondo parte in anticipo. Grazie alla Snow Farm la stagione aprirà infatti il 28 ottobre. Così in occasione del ponte del 1 novembre la località Formazzina sarà pronta con il suo anello di fondo di 2,5 chilometri. La Snow Farm non è null'altro che un accumulo di neve è conservata nella tarda primavera che grazie a speciali teli geotermici isola la neve dalla temperatura dell'aria. Questo consente alla stazione ossolana di poter avere a disposizione un innevamento naturale già in autunno e addirittura di partire un mese prima del ponte dell'Immacolata tradizionale data che segna l'apertura della stagione invernale delle località alpine italiane. Il distretto turistico dei laghi, dei monti e dell'Ossola si conferma così meta ideale degli sport outdoor in ogni stagione, non solo in estate, non solo in inverno. Di recente è ospitato infatti eventi di richiamo come i mondiali di Sky Running a San Domenico, Formazza e Bonianco e poi la prossima fine settimana il Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta. Due eventi che di fatto concludono una stagione positiva che turisticamente parlando ha visto numeri record. Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale la ripresa del comparto in Piemonte ha trovato conferma in un'estate molto positiva con movimenti turistici superiori anche all'estate del 2019 che hanno fatto segnare un più 7%. Inoltre il distretto turistico è presente in questi giorni alla Travel Experience a Rimini dove sarà presentata la riccoferta del territorio, l'outdoor, la gastronomia e la cultura del benessere. A Omegna il Comune ha dato incarico per la progettazione della riqualificazione dell'ex scuola Madonna del Popolo. Si cercano i fondi per la bonifica della struttura del progetto in città. Si discute da anni. Qualcosa si muove sul fronte di Piazza Madonna del Popolo in modo particolare sulla scuola, ormai famosa scuola all'amianto. Si sta muovendo l'amministrazione. Che idee avete? Come vi state muovendo, Assessore? Ci siamo mossi in maniera abbastanza decisa per recuperare un brano di territorio che ormai è dismesso, abbandonato e si vede alle mie spalle degradato. Abbiamo dato in carico l'architetto Tommaso Marchi di redigere un progetto per recuperare l'edificio dell'ex scuola Madonna del Popolo ma per fare un progetto che comprendesse anche la riqualificazione della piazza, il completamento della pavimentazione del sagrato della chiesa e che valorizzasse anche la fontana storica e il lavoro che è stato fatto dall'Associazione Amici di Madonna del Popolo per recuperare questo luogo come piazza. Voi avete qualche idea, qualche proposta, qualche suggerimento da dare? Perché sappiamo che in questa piazza l'idea ce ne sono state tante insomma sono rimaste tutte sulla carta. Sì, l'idea è quella di recuperare questo edificio a funzione di uffici pubblici. Attualmente si tratta di razionalizzare gli uffici che sono divisi su tre località l'anagrafe in piazza Salera, gli uffici tributi nel municipio, gli uffici a scuola, altri uffici in via De Angeli anche in luoghi non adatti per chi lavora e soprattutto per chi accede agli sportelli. Quindi si tratta di recuperare questo edificio, valorizzarlo, accentrare gli uffici e risparmiare anche dei soldi perché sarà un edificio sicuramente ad alta efficienza e sarà un ufficio meglio adatto ad accogliere il pubblico che si rivolge agli sportelli comunali. Sappiamo che uno dei problemi più grossi da risolvere è quello dell'amianto da togliere in questo edificio. Si parlava all'epoca, però già un po' di anni fa, di 600 mila euro. E quel problema dei costi come potrebbe essere risolto? Allora, sicuramente è un grosso problema ma è anche un problema da risolvere. Cioè è inutile lasciarlo lì per altri anni ancora. È stato stimato una bonifica per circa 540 mila euro. Gran parte sono finanziati attraverso un bando del PNR per recuperare questi costi. Bisogna cogliere l'occasione e valorizzare questi edifici. Non lasciare che porti altro degrado. L'aggiornamento sulla situazione epidemiologica del covid in Piemonte riporta oggi 5.170 nuovi casi accertati di cui 5.086 con test antigenico. Il rapporto tra positivi e campioni è del 21,9%. Ricoverati nei reparti ordinari 723 sono 33 in più rispetto a ieri mentre il numero è invariato in terapia intensiva 18. È stato registrato anche un decesso. A Verbania nel reparto psichiatrico arriva la pet terapia. Le attività si svolgono ogni lunedì pomeriggio per un'ora e mezza. I dettagli del progetto presentati nel corso di una conferenza stampa. Quali sono i benefici che vi aspettate da questa esperienza? I benefici che ci attendiamo riguardano due livelli. Il livello relazionale, emotivo dei pazienti e il livello del benessere sia dei pazienti che degli operatori. In più, un altro aspetto innovativo non è l'aspetto tecnico ma risiede nella volontà di ribaltare un modello culturale che è quello dell'esclusione dei pazienti psichiatrici soprattutto in fase acuta e l'idea che il reparto psichiatrico, l'SPDC sia e debba essere uno spazio di reclusione chiuso. Avete anche collaborato con delle associazioni? Sì, noi collaboriamo da anni con Avap Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del Malato ci aiutano finanziariamente in progetti che di volta in volta proponiamo e che trovano da parte loro estremo interesse e accoglienza. Siamo qui con Amelie e Marta come si svolgerà la pet therapy qui in reparto? Allora, saranno incontri settimanali previsti per il lunedì pomeriggio quest'orario quindi dalle tre e mezza indicativamente verso le cinque ogni volta noi verremo con Amelie e un po' di materiale per fare le attività coinvolgeremo un gruppo di pazienti in accordo con l'equipe che li segue abitualmente e li coinvolgeremo appunto in attività con Amelie. Le attività sono di vario tipo attività pratiche, attività di cura nei confronti del cane, di contatto cercheremo di utilizzare il più possibile la struttura esterna quindi il cortile per anche un po' fargli passare un'ora fuori dalle mura dell'ospedale. Benessere anche del cane perché ci saranno dei veterinari a seguire Amelie? Esatto, Amelie verrà monitorata a distanza quindi con i riferimenti che portarei alla veterinaria e la veterinaria ogni mese avrà una seduta dove verrà appunto a valutare che Amelie effettivamente stia bene a tutti gli effetti. Dottoressa, questo è un progetto in cui l'ASL e lei in prima persona ha creduto molto? Moltissimo, io sono sempre stata convinta e da anni me ne stavo occupando a livello teorico dell'importanza della interazione uomo-animale nella cura dell'uomo mantenendo sempre il benessere dell'animale ovviamente a vari livelli dalla cura territoriale dove è più noto alle cure domiciliari dove si potrebbero fare delle belle sperimentazioni anche all'ospedale. Sabato 1 ottobre a Ornavasso nella sede della Magistris & Wetzel azienda metalmeccanica inaugurata la mostra di Daniele Sigalot con l'apertura ufficiale di VEM 1.000 metri quadri di spazio espositivo una delle gallerie d'arte contemporanea più grandi del paese. 2017, Magistris & Wetzel siamo a Ornavasso la visione, quella di Marco Bracaglia è nata con l'idea di fare qualcosa di bello e di promuovere l'arte contemporanea in Italia e non solo siamo in una fabbrica tuttora attiva VEM è nata da una costola della Magistris & Wetzel dove avevamo iniziato un'attività di residenze per artista nel 2017 nel 2021 ci siamo resi conto che era necessario che diventasse non più un'attività collaterale ma un'attività vera e propria a sé stante e dopo aver prodotto mostre museali per alcuni dei più importanti artisti italiani quella che vedete qui alla mia destra è un'opera che è stata esposta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma lo scorso anno abbiamo deciso di intraprendere anche l'attività di gallerie d'arte queste in effetti sono opere a chilometro zero visto che sono state fatte al piano di sotto e ciò nonostante si trovano al loro agio ma il titolo appunto è riferito probabilmente al contesto nel quale vengono esposte perché questa natura bipolare del luogo dove da un lato si sta in tuta da lavoro con le presse a produrre oggetti seriali che non ambiscono al bello, al pensiero convive con un posto che sembra una galleria di New York o di Londra domenica 16 ottobre si terrà la seconda edizione dell'Octoberfest evento dedicato alle specialità gastronomiche e artigianali del verbano Cusiossola promosso dalla Proloco di Be in collaborazione con la Proloco di Piannava e dei commercianti locali il patrocinio del comune di Be dalle 9 alle 18 in piazza Barozzi si potranno degustare birre artigianali e acquistare prodotti locali come miele, salumi e formaggi ma anche oggetti realizzati a mano da obissi e creativi del nostro territorio dalle 14.30 nella frazione di Piannava si terrà la tradizionale castagnata per festeggiare l'arrivo dell'autunno in caso di maltempo l'evento sarà posticipato a domenica 23 la nuova puntata di Vivere in Salute giovedì alle 19 e alle 20.30 ci porta nella cardiologia dell'Asla VCO per parlare delle nuove attività avviate poi il punto su emodinamica e una panoramica dell'intero lavoro del reparto Nuove attività da inizio anno per la cardiologia dell'Asla VCO diretta dal dottor Alessandro Lupi molte di queste prestazioni un tempo dovevano essere cercate altrove fuori Asla oggi non è più così nell'ambito della cardiologia strutturale parliamo della chiusura del forame ovale pervio responsabile dell'ictus criptogenetico attraverso protesi a ombrellino un meccanismo simile viene usato per la chiusura dell'auricola sinistra a prevenzione dell'embolia per fibrillazione atriale nei pazienti che non possono assumere anticoagulanti poi il trattamento dell'ipertensione arteriosa resistente attraverso la denervazione renale sul fronte delle attività di interventistica radiologica periferica prima in capo alla radiologia si eseguono angioplastiche sulle arterie degli arti inferiori sempre con tecniche transcatetere sotto il ginocchio contro le patologie ischemiche che possono addirittura sfociare in amputazioni in particolare nei pazienti diabetici e nefropatici infine per i pazienti dializzati il trattamento delle fistole arterovenose che possono restringersi o chiudersi rendendo problematica la gestione di questi malati è il dottor Lupi a riferirci i numeri di queste nuove prestazioni sin cui eseguite in questi mesi abbiamo chiuso se non mi sbaglio 5 forami ovali pervi e 6 o 7 auricole abbiamo fatto una quindicina di interventi sugli arti inferiori e abbiamo fatto una decina di fistole arterovenose poi abbiamo fatto due interventi di innervazione renale che è stata l'ultima cosa che abbiamo introdotto fondamentalmente questa è un po' l'attività che abbiamo portato avanti e che stiamo ampliando perché per esempio per la prossima settimana già abbiamo una seduta di chiusura di auricole di forame ovali pervi e un'altra seduta di vascolare con il dottor Lupi ma anche con la caposala di cardiologia Mirella Cerutti approfondiremo queste nuove attività ma parleremo anche di emodinamica e del lavoro in reparto nella nuova puntata di Vivere in Salute in onda su VCO Azzurra TV il giovedì alle 19 e alle 20 e 30 e il venerdì alle 11 e alle 23 Nel prossimo servizio le anticipazioni dell'infinito dentro un bisogno la trasmissione dedicata al terzo settore firmata dal CST in onda il giovedì alle 18 con repliche venerdì alle 13 e alle 21 e 30 Vi aspettiamo l'infinito dentro un bisogno l'incontro ospite di questa puntata Emanuela Rossi comunicazione del CST e Paolo Ramoni direttore artistico del Festival di Malescorto in questa puntata parleremo del Bando Corti di Solidarietà un'iniziativa promossa da CST e il Festival Internazionale di Malescorto per aiutare le associazioni a comunicarsi a promuovere le proprie iniziative a cercare nuovi volontari attraverso una modalità particolare una modalità che definirai artistica ossia attraverso la realizzazione di cortometraggi che saranno sostenuti e accompagnati dall'azione congiunta di questo bando quindi dal Centro Servizi per il Territorio e dal Festival Internazionale di Malescorto Non mancatevi, aspettiamo E ora siamo arrivati allo sport in apertura il podismo si è corso nel fine settimana a Domodossola il settimo trail del Calvario organizzato dall'atletica Avis Sossolana Nonostante la pioggia e qualche defezione dei 273 iscritti domenica a Domodossola si è corso il trail del Calvario Vincitori assoluti sul traguardo della 21 km a coppia il duo della S.D. Bognanco Ruben Mellerio e Fabio Cappelletti in un'ora 45 minuti e 16 secondi seguiti a meno di due minuti da altri due alfieri della S.D. Bognanco Cristiano Galletti e Michael Cagnacci Sul podio terzi assoluti gli anzaschini Marco Vittone e Michele Matri Nella classifica delle coppie femminili la vittoria Riso Marta Della Vedova e Rosa Cerlini col tempo di 2 ore 46 primi e 34 secondi Secondi Michela Rogore e Antonio Larani del Team Avis Marathon Verbagna a poco più di 6 minuti Terzi le varesine Emanuele Abrianza e Patrizia Dierico Ancora dominio della S.D. Bognanco con ben due piazzamenti della competizione mista Prima la coppia Paola Varano e Alessandro Rosa 1 ora 59 primi e 21 secondo seguiti a poco più di un minuto da Chiara Iulita e Davide Ciocca Terzi Elisa Fantonetti e Mauro Bernardini dello Sport Project VCO Sempre per la 21 chilometri a coppia Rubo e Mellero e Fabio Cappelletti sono risultati vincitori del Gran Premio della Montagna Dobo Bianca 365 assegnato ai 1080 metri dell'Alpe Lusentino Suggestivo l'arrivo della 11 chilometri individuale a presentarsi primi sul traguardo mano nella mano con lo stesso tempo 49 primi 36 secondi tre giovani atleti della S.D. Caddese Burama Cullibali Andrea Menegaz e Alessandro Borsotti Anche tra le donne è stata egemonia di un solo team in questo caso con l'intero podio meritatamente guadagnato dalle ragazze del G.S.D. Gangenzianella Prima Alessia Pozzi in 1 ora 0,2 12 secondi seguita da Teresa Bianchetti ed Elisa Tabacco Tre riconoscimenti dedicati alle memorie di atleti dell'Atletica Aviso Solana prematuramente scomparsi Il trofeo Davide Bolognini è stato vinto dalla coppia minenese Roberta D'Alesio e Alessandro Gallotti Il trofeo Maurizio Cheola dalla coppia Avisino Solana Claudia Cartini e Simone Persampieri mentre il premio Riccardo Di Leonardo da Gabriere Bardone che ha corso la 11 chilometri Ora i risultati del calcio CSI dopo l'ultimo fine settimana dopo tre giornate al comando cinque squadre tutte a pari punti Nella gironia del calcio a sette del CSI dopo tre giornate comandano cinque squadre tutte a sei punti si tratta di Premia Irriducibili Domodosso La Robaduccia La Cadrega e Pedemonte le prime quattro hanno vinto tutte contro Arcadius Erculaneumiselle Barmood e Alpesogno mentre il Pedemonte è stato battuto dal Megolo 2-3 Nella girone B giornata numero 2 e c'è una coppia in testa quella formata da Vanzone e Pallanzeno che hanno sconfitto il Bracchio 5-0 e l'Atletico Cogia 3-1 A quattro punti Real Migianda e Masera United vittoriose su scarico merci e osteria via Briona Nella girone C guida il Luzzogno a punteggio pieno con nove punti 1-0 nel big match con il Big Anzolo secondo il Caffè Stangrini da rimarcare il primo successo per il Giffa che di fronte a 150 spettatori ha battuto il Paruzzarello 2-1 Santino Barmilano e D'Arizzano hanno fatto 2-2 nel girone D superate Paolo Anstresa Virtus Crusinallo e Trafiume Brisino Fondotocce e Rapid Pogno sono il trio in testa al girone E con 6 punti proprio il Fondotocce ha battuto ed ha guantato il Rapid Pogno mentre il Brisino ha perso con il Barchico d'oro 4-3 Nella calcio a 5 Livin Porcello e Pistacchione sono in testa con 6 punti dopo i successi con Cutrone e Stintori di Misura ed FC Gravellona E questa era l'ultima notizia grazie per averci seguiti e buona serata